Ben trovati a Sport News, appassionati di bici e di escursioni all'aria aperta in festa a San Severino per la riapertura del rifugio Vallonica, riqualificato dall'associazione Bike Zone che ne ha ottenuto la gestione dall'Unione Montana, Potenza e Sino Musone. Dopo i luoghi ma necessari lavori di recupero, la struttura è tornata in uso grazie alla collaborazione del Comune e dei numerosi soci del Sodalizio, il cui consiglio direttivo ha iniziato a lavorare all'importante obiettivo di ridar vita insieme a diversi percorsi per appassionati di mountain bike a questo luogo immerso nella natura, meta di passeggiate ed escursioni. Al taglio del nastro ha fatto da contorno l'evento Settempe d'Outdoor Weekend, organizzato nell'ambito del progetto Emozioni Sensoriali fra li valli del Musone e del Potenza. Ci occupiamo ora di basket perché la ruttene di coach Alberto Sparapassi si presenta per la prima trasferta stagionale in Cerottata, ma espugna dopo aver fatto a sportellate per 40 minuti il palasporte di Via Ungheria, domando il coriaceo e volitivo Sporting Porto Sant'Elpidio per l'inerzia di mezzo canestro. Un punto sul parquet che vale il doppio in classifica e che consente ai biancorossi settempedani di tornare a casa cariche e con il sorriso di chi spera che il peggio, in quanto ad acciacchi vari, sia alle spalle. Ora la ruttene basket si prepara ad affrontare venerdì 27 ottobre alle ore 21.45 il basket fermo al Palace Ciarapica. E con quest'ultima notizia di sport è tutto per questa edizione del nostro Tg, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.